Un incontro tra amici a Roma. Una riunione a Roma. Ma Daniele? Oriana Marzoli, la bella venezuelana, ha trascorso qualche giorno nella capitale, la magnifica Roma, senza incontrare però il suo Daniele dal Morro. Questa volta è veramente finita? Oriana è a Roma per un evento e ne ha approfittato con Micol in Corvaia, Edoardo Tavassi e anche Edoardo Donna Maria. I ragazzi hanno trascorso una bella serata in un noto locale di Roma. Alla riunione però c'era un grande assente, Daniele dal Morro, che proprio il 27 di novembre aveva annunciato l'ennesima rottura con Oriana. Questa volta i due ragazzi sembrano fare sul serio, infatti non si sono rivisti. La ragazza, solo poche ore fa, ha postato una sua foto dell'aeroporto di Fiumicino, prima di ritornare a Madrid. Addio Daniele!